Sono anche in letto, questo è un guai, è un guai, è un guai, no, sentite questo rumore di fondo, sono le meccine qua veramente facciamo delle cose in grande, poi direte che cosa stai facendo? Niente, sto cucinando, mi prendete in giro che se no vi do in testa questa, porca puttana, questa è una cosa, ma chi serve questo? Non lo so, ho trovato, ho detto, lo uso, aspettando, e basta con questo qua si non me l'ha detto, non capisco più niente, non capisco più niente, guarda la forchetta, e anche sport, per forse lo usate, la forchetta, porca puttana maledetta, ma rima, che me ne frega a me? Se anche voi state mangiando, buon appetito maledetta, ciao ne?